Eccoci, allora oggi guardiamo il brano Liberala di Gianni Mastro Gianni, è un brano anche questo molto denso, dice liberala la libertà, perché la libertà comunque in un certo senso non è libera se non è liberata, quindi occorre liberarla la libertà, ma entriamo dentro al vivo della questione, cominciamo a leggere la prima riga, innanzitutto abbiamo una successione di 6 crome e una semi minima, stessa cosa nella seconda battuta, 6 crome e una semi minima, stessa cosa nella terza battuta, 6 crome e una semi minima, stessa cosa nella quarta battuta, 6 crome e una semi minima, nella quinta battuta invece abbiamo 8 crome, poi ritorna il nostro solito ritmo all'ultima battuta, 6 crome più semi minima, andando a leggerle con le sillabe che abbiamo imparato con ti e ta viene fuori questo, mettiamo una velocità di 70 vpm, leggiamo 1, 2, 3, 4 T-ti-ti-ti-ti-ti-ta 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 T-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Ultima riga T-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Esattamente Notate che sotto queste note ci sono sia delle parole sia delle lettere Queste lettere si riferiscono ai movimenti da fare, ai suoni da eseguire con il corpo M in particolare è il colpo con le mani B, che troviamo già nella prima battuta, è il colpo con il banco Se a casa non avete un banco, come immagino sia, userete un tavolo o qualcosa Mentre abbiamo una C nella seconda riga che sta ad indicare la clavicola Potevo mettere P di petto, però non mi piace battere qua al centro Perché poi ci sono degli organi importanti qua, il cuore, i polmoni Quindi andiamo a battere vicino alla clavicola Risuona anche meglio Qua c'è la clavicola Subito sotto, in questa zona, andiamo a battere la C Andiamo a vedere adesso come suona la prima riga Abbiamo libera e poi mani, banco, banco, mani Verrà libera Per due volte, prima e seconda battuta Lo proviamo insieme 70 battiti al minuto Uno, due, tre, quattro Libera Libera Molto bene Andiamo adesso a vedere la seconda riga Banco, clavicola, clavicola La libertà Attenzione che TA di libertà, sia nella terza che nella quarta battuta È una semi minima, quindi è bella lunga Proviamo insieme solo la seconda riga Uno Due Tre Quattro La libertà La libertà Esattamente Proviamo adesso la prima e la seconda riga Pronti? Uno Due Tre Quattro Libera Libera La libertà La libertà Bene Andiamo a vedere adesso L'ultima riga L'ultima riga È composta da uno scambio veloce Banco, clavicola, mani Più La Lo ripete tre volte Banco, clavicola, mani La Banco, clavicola, mani La Banco, clavicola, mani La E poi finale Banco, mani, mani Attenzione a non confonderci Proviamo insieme l'ultima riga Proviamo insieme l'ultima riga Due Tre Quattro La 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 Un'altra volta Tre Quattro La 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 Molto bene Proviamo un'esecuzione adesso completa Sempre a 70 watt di al minuto Pronti? Uno Due Tre Quattro Libera 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 La Libertà La Libertà La 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 Molto bene Saliamo un po' Andiamo a 76 Uno Due Tre Quattro Libera 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 La La Libertà La Libertà La 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 Bene Ultimo passetto Andiamo a 80 Un Due Tre Quattro Libera 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 La La Libertà La Libertà La 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 Molto bene esercitatevi e alla prossima La 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 Grazie a tutti.